weee scappati di casa bilanisti noi quest'anno facciamo un mercato scoppiettante il di du da be babi babà e lukaku e dibala e pipì e pupupu e mickey mouse miktarian e boom bam 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 malotta malotta cosa è successo con dibala cosa è successo tre mesi che stare dietro dibala cosa 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 piega zang piega zang è la prima volta che ci sono tanti svingolati così interessanti liberi e un calcio in trasformazione dibala rappresenta anzi rappresentava un'opportunità ma non possiamo dimenticare che noi siamo a posto lì davanti nel parto offensivo ma non capile io non capile tre mesi che tutti i giornali più più venduti d'italia parlano parlano di questo dibala intel intel fatta intel mamma lì siaglia ha fatto abitazione del del bambino di bala tutta nel nello nello azulla e noi ora ci tiriamo indietro weee zah ma tu lo sai che noi compriamo solo coi soldi del monopoli weee zio adesso rifaranno tutto quanto li a bologna e ci faranno dare i tre punti dietro e di 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 e vinciamo il campionato e il dindon 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 intervengo da sassuolo anche raspadori ha fatto gol sarà qualcosa di reale capito fegati scoppiati cervelli impazziti a casa inter ormai tutte le grandi bagianate raccontate in questi mesi come detto dal sottoscritto hanno cominciato a prendere forma dibala è semplicemente una grande fake news degli ultimi tre mesi che hanno praticamente venduto fumo negli occhi di questi buzzurri nero azzurri e hanno voluto fargli credere che questi hanno soldi a non finire lukaku lo scorso anno venduto per 115 milioni adesso quest'anno ritorna con in prestito con 8 milioni all'anno cioè tutti sti movimenti strani di soldi però adesso devono vendere screener per fare del mercato ma e poi ci danno a noi degli scappati di casa intanto ricordati like l'iscrizione al canale abbonamenti in basso senza stare lì a darci tanti giri e far tanti giri di parole quindi tribù rossonera tribù di gente vera buonasera e bentornata bentornato all'appuntamento serale il secondo e ultimo di questa giornata oggi si sono rincorse tantissime notizie anche per quanto riguarda il milan soprattutto per quanto riguarda origi e c'è un giallo c'è un giallo sui suoi tempi di recupero è probabile o no che salti tutta la preparazione e chiaramente c'è un po' di incertezza sui tempi di recupero dell'attaccante belga che sarebbe dovuto guarire in dieci giorni da un vecchio infortunio che si porta comunque dai tempi del liverpool mentre secondo il mezzi di distrazione di massa sky sport vediamo se sarà vero il belga potrebbe addirittura stare fuori fino a quattro settimane ciò vuol dire che salterebbe tutta la preparazione pre campionato e chiaramente sarebbe un bel rischio anche per il milan poi inserirlo fin da subito negli schemi di pioli ma a pesar desta notizia nonostante questa notizia ce ne sono anche altre che oggi riguardano il milan praticamente quel nome che tanto era ambito come asensio nel milan sembra che adesso si allontani un po' come era successo con dibala per l'inter e praticamente c'è un liverpool e un arsenal che sono già in pole position su di lui ma anche per quanto riguarda il figlio di paolino maldini stiamo parlando di daniel che il suo unico gol in serie a contro lo spezia potrebbe far sì che diventi anche la sua squadra del prossimo campionato ma attenzione sembra ci sia un inserimento da parte del verona addirittura è uscito un altro nome di allo intanto suggerisco la mia carissima amica mariuccia prendi nomi emira tu scrivi sempre tutto siamo arrivati più o meno al 35esimo nome da inizio mercato su questo milan però spaventa il prezzo perché il psg praticamente per meno di 20 milioni non lo venderebbe dunque una serie di notizie una dietro l'altra che poi si uniscono e si aggiungono alla presentazione che c'è stato oggi qui a barcellona da parte del 71 ivoriano 71 nella smorfia napolitana già sapete che è l'home e merda stiamo parlando di franchesi che praticamente oggi si è presentato con grande gioia che finalmente in una grande squadra lo ha chiamato xavi hernandez come puoi dire di no un grande giocatore del genere chiaramente prende 6 milioni e mezzo a stagione dovrebbe arrivare addirittura andreas christensen un altro svincolato direttamente dal celsi di cui verranno pagati 6 milioni all'anno però attenzione che arriva dalla germania una notizia alquanto imbarazzante chiaramente per i colori blau grana infatti il bayern monaco non intenderebbe vendere il suo grande ma vendicela a noi rober levandoschi al barça perché il bar solo vorrebbe pagare in due rate ciò vuol dire che il bayern non si fida perché secondo voci che arrivano direttamente dalla germania tra uno o due anni addirittura il barcellona non esisterà più per i genti problemi finanziari e non stanno dicendo qualcosa di così falso noi che viviamo qui in spagna sappiamo benissimo dei gravi problemi che al barça così come ce l'ha l'inter in italia l'unica differenza che sono mascherati da un grande potere politico che hanno tanto il barça qui che l'inter in italia e dunque i tedeschi chiaramente che sono gente i tedeschi gente seria dici chi cacchio me lo fa fare alla fine a rischiare di vendere un giocatore poi magari mi danno una parte e l'altra ciao peppe non la vedo più e non hanno tutti i torti anche perché se il buon la porta presidente del barça continuerà a non tener conto dei problemi finanziari della società catalana e a spendere così tanti soldi il pronostico non è poi così surreale e poi per concludere altre due notizie a ruota libera una riguarda una situazione strana che si è creata con la fiorentina con l'ingaggio di ovici voi sapete un attaccante che sarebbe dovuto addirittura venire nel milan lo scorso anno e per 5 praticamente una formula completamente nuova che si usa molto nella nba americana e praticamente il real madrid lo libererà gratis in poche parole pagando 5 milioni di buon uscita giocatori suddivisi in due anni e poi punterebbe anche sulla sua ripresa trattenendo per sé il 50 per cento del valore della futura rivendita del suo cartellino cioè che se fra due anni la fiorentina prende lo vende lo vende a 20 milioni 10 milioni dovranno andare al real madrid praticamente jovic firmerà un contratto biennale con una possibilità di prolungamento automatico per altri due anni a cifre di stipendio raddoppiate da due e mezzo a cinque milioni quindi una situazione nuova anche nel calcio e per concludere sempre a firenze una situazione che mi lascia un po perplesso nel senso trovati quattro positivi in squadra tutti asintomatici io sono rimasto un po così ho detto ma scusate ma io il complottista il negazionista quello che mi hanno dato novax in questi due anni tutto quanto cosa io vi raccontavo tempo fa attraverso il premio nobel montagné che anima sua purtroppo non c'è più che diceva che in un'epoca pandemica non bisogna vaccinare perché sennò si creano più varianti ed è quello che succede adesso in agosto mai in luglio agosto non è mai successo che un virus potesse continuare a fare tanti diciamo ammalati e invece questo sta succedendo e infatti ha beccato anche la fiorentina quattro giocatori e poi adesso parlano di asintomatici prima non sapevano manco che cos'erano quindi cosa vuol dire perché metti in isolamento se sono asintomatici vuol dire che non hanno sintomi quindi anche in questo aspetto ci sono delle menzogne che arrivano dal mainstream da tantissimo tempo soprattutto per quanto riguarda queste vaccinazioni visto che sono arrivati alla terza dose devono fare la quarta dose e nonostante questo le persone si ammalano ancora conosco proprio dei miei follower che si sono ammalati adesso con 38 39 di febbre che hanno questo questo virus nonostante abbiano tre vaccinazioni poi non state ascoltare quello che dicono le televisioni è però se non fosse per questo sarebbero già morti io non c'ho nessuna di queste e non sono morto sto bene sul vegeto mio figlio pure le persone attorno a me che non siamo caduti in questa trappola mediatica organizzata dalle alte sfere per far sì che le grandi big pharma e tutto ciò che c'è attorno potessero guadagnarci chiaramente delle dei soldoni perché attraverso le grandi case farmaceutiche sappiamo che in questi due anni hanno fatto un business esagerato basta che andate in borsa vedete come sono schizzate le azioni di queste società e io vi faccio sempre la stessa domanda uno stato o degli stati e dei governi proprio così da amico che negli ultimi dieci anni hanno ritagliato il 70 per cento della sanità piuttosto che hanno contribuito a far sì che l'economia dei paesi andassero in ginocchio soprattutto in questi ultimi due anni dove è aumentato il prezzo della luce dove aumentato il prezzo della benzina in una maniera fuori dal normale piuttosto che dei prodotti primi con la scusa adesso anche di una guerra in ucraina col discorso del grano ma è tutto orchestrato per farci diventare completamente degli schiavi al servizio di questi padroni e di queste elite che da noi vorrebbero darci praticamente tutto il reddito di cittadinanza per fare diventare completamente loro sudditi e quindi la domanda è da quando uno stato pensa alla tua salute tu pensi che è un senso di responsabilità a fare questa cosa qua e loro quando è che sono stati responsabili quando ci sono stati licenziamenti improvvisi persone che sono rimaste senza soldi hanno dovuto chiudere i loro commerci lì lo stato non era magnanimo lì lo stato non aveva la responsabilità di salvare i propri cittadini però adesso casualmente tutti pensano alla salute delle persone quando abbiamo benissimo visto che questo tipo di campagna vaccinale è un grande fracasso perché le persone si ammalano nuovamente e diventano promotrici di nuove varianti e questa cosa diventerà la storia infinita fino a quando voi non deciderete di prendere in mano la vostra edilità e dire basta basta con le menzogne come io racconto tutti i giorni le menzogne nel mondo del calcio purtroppo le menzogne ci sono anche nella sfera politica e quindi vi invito seriamente a seguire canali come visione tv di francesco toscano piuttosto che francesco amodeo piuttosto che 100 giorni da leone piuttosto che bio blu piuttosto che radio radio e lì ascoltate veri medici veri scienziati che tra l'altro sono stati anche radiati dai loro vari ordini che siano medici piuttosto che giudiziari piuttosto che altre forme professionali vi dico questo perché sapete che vi voglio bene sapete che io sono uno spirito libero e ho voglia di condividere con voi la verità in tutti gli ambiti la mattina chiaramente lo faccio da un punto di vista molto più animato molto più scherzoso cerco sempre un po di sbaccare situazioni che fondamentalmente sono allucinanti cioè che ogni giorno le cazzate che ci raccontano questi mezzi di distrazione di massa sono incredibili sono fuori dal normale e purtroppo anche nella politica succede questo e giornalacci come la repubblica corriere della sera la stampa il mattino di napoli il resto del carlino sono tutti venduti ai padroni e vi dicono ciò che loro vogliono che voi ascoltiate quindi ti chiedo gentilmente usa di più il cervello cerca di distanziarti da questi mezzi perché sono dei mezzi di manipolazione delle masse per qualunque altra consulta io ho anche un canale in telegram dove parliamo di tutte queste cose che uniti per la verità piuttosto che anche nel mio canale sempre del milan però amici del marietto in telegram è più easy si parla tanto di calcio di queste cose voi sapete che questo non è un canale normale perché non normale per la comungente che non vuole ragionare ma è un canale come una vera tribù e nella tribù ci si affronta anche questioni che vanno più in là dello stesso calcio ma neanche tanto visto che l'ho appena finito di dire fiorentina quattro positivi in squadra nonostante tutti vaccinati con tre dosi quindi la menzogna ve la mettono davanti agli occhi io vi aiuto solo per farla cadere un bacio a tutte le amiche un forte abbraccio a tutti gli amici un bel uuuu a tutta la tribù a uga 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 sempre forza mila ovunque comunque se sei una persona intelligente già hai messo un like già ti sei iscritto al canale e già hai fatto qualche abbonamento che c'è in basso o una tanto un con paypal e conto corrente bancario per il resto se tu non crede a queste cose ci sono migliaia di canali che ogni giorno raccontano fuffa ciao